UN PIANO PERFETTO Un piano perfetto. Sono splendidi. Valeva la pena aspettare. Niente viene prima di Diabolica e della sua cattura. Niente. È un'ossessione per te. Stavo per catturarlo. Quando accadrà, la nostra vita cambierà. Quell'uomo che diceva di amarmi... ...mi ha abbandonata. E adesso voglio vindicarmi. Diabolica ha bisogno di fare un colpo al più presto. ... 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